a guzze lame calcare che come denti di un gigantesco animale preistorico emergono da un manto compatto di alberi si tratta della pietra cernaia la cui cima raggiunge i 1785 metri di quota ed è meta di molte escursioni uno dei geositi più belli ed affascinanti dell'intero geoparco maiella alla portata di tutti grazie a tutti